tre giorni prima del live ho fatto piazzare sotto la ruota panoramica nel centro di olbia un piccolo palco ok i primi due giorni dovevano iscriversi vari artisti locali e il terzo giorno toccava a me il tutto è stato organizzato ovviamente sotto falso nome infatti nella locandina c'era scritto dj triplo non salmo gli organizzatori quelli del comune non avevano la minima idea di chi fosse dj triplo e non sapevano di trovarsi davanti 3 4 mila persone ho comunicato il posto e l'orario tramite messaggio e passaparola come se faceva una volta quindi se vi stavate chiedendo come ha organizzato questo così non era molto difficile bastava usare solo un po un po di fantasia ora io sarò sincero con voi raga sapevo benissimo di andare incontro a una marea di merda ma non me ne fregavo un cazzo ora che io abbia fatto una cazzata è discutibile perché il live è stato sotto una ruota panoramica a 10 metri dal corso dove visto che è una zona turistica ci saranno minimo 10 mila persone al giorno in giro tutte ammassate senza mascherina anche perché l'obbligo della mascherina in pubblico non c'è più cioè se io fossi andato al corso e mi quindi quali sono le regole che infranto quali sarebbero le regole previste per un concerto all'aperto senza recensione senza ingresso senza biglietti accessibile a tutti a fianco al centro in una zona turistica prima di cantare sul palco ho detto delle cose importanti al microfono perché la mia idea iniziale era fare protesta fare una protesta poi ho cantato perché è quello che faccio lo devo fare ballare ho detto delle cose importanti riguardo le regolette che hanno imposto che ha imposto lo stato per i concerti e sono patetiche regole patetiche perché dentro il concerto ti devi comportare in una certa maniera poi esci fuori al recinto e fai il cazzo che ti pare allora non va bene non mi fa di fare dei live così in maniera molto triste vedere le persone sedute distanziate con la mascherina io non ci sto ok ho fatto l'ipocrita lo stronzo ok però mi sono battuto per le mie idee perché le regole non vanno bene e quando ho detto la frase non puoi definirti un artista se non infrangi le regole se non avete capito quella frase è semplice perché non siete artisti e alcuni dei miei colleghi che non l'hanno pensata come me ovviamente ognuno può esprimere la propria opinione sappiate che per voi è una sconfitta artistica perché questa cosa la dovete fare anche voi ok perché io mi sono battuto per cercare di andare contro delle regole ridicole ok questa cosa riguarda anche invece voi ve ne state nelle vostre villette a collezionare i vostri cazzo di vestiti versace e gucci e a sbattervene le palle e avete paura di perdere le cose rischiate ogni tanto nella vita battetevi per qualcosa che vi interessa la musica ma secondo me lo sapete qual è il problema è che dalla musica a voi non ve ne frega un cazzo non avete le palle per rischiare poi per chiudere tutto questo pippone e so che questa è la cosa che vi interesserà di più perché del resto che ho detto non me ne frega un cazzo fedez non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul cazzo io questa cosa non te l'ho mai nascosto però penso tu sia un ottimo politico sei bravissimo come politico ed è quello che devi fare te lo auguro ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare della raccolta fondi per aiutare la sardegna perché in quello tu sei bravissimo ok per questo te l'ho chiesto però non volevo sono sincero non volevo avere a che fare niente con te questa è la verità vorrei chiederti se ogni qual volta dovrò discutere con te se devo discutere con un artista o con un politico perché lo vorrei capire perché a me sembri proprio un politico non sei un artista buone vacanze è fai fai